La preparazione di un buon pasto richiede tempo e fatica. Tagliare, affettare, mescolare e poi cuocere. Perché non immaginare che un robot possa fare tutto per noi? Può sembrare inverosimile, ma questo futuro immaginario non è poi così lontano. Un cuoco robot che può preparare pasti di qualità in pochi minuti è stato sviluppato dagli ingegneri della britannica Molle Robotics. Il robot dispone di due mani completamente articolate, strumenti in grado di riprodurre fedelmente i movimenti di una mano umana, per esempio quella di un cuoco professionista capace di cucinare prelibatezze con tutta l'abilità di un grande chef. Se puoi imitare le mie mani, puoi imitare le mani di ogni cuoco. Non c'è motivo di credere che non possa fare qualunque cosa, impastare il pane, fare i sushi, tutte cose manuali. L'ambito del suo intervento è quasi infinito. La macchina può imitare i movimenti di un essere umano grazie a guanti che ricalcano i movimenti. Ogni movimento, per quanto minimo, può essere catturato dalla tecnologia motion capture. In seguito le azioni sono tradotte in movimento digitale grazie ad algoritmi speciali. Col modello di un movimento giusto il robot non si sbaglia. Così l'uomo mette in campo il processo creativo e il robot si incarica delle operazioni noiose. Una versione del robot per il grande pubblico ad un prezzo accessibile sarà disponibile in due anni. Secondo gli ideatori, se gli si può insegnare a cucinare, non c'è ragione che non possa suonare il pianoforte, imparare la carpenteria e chissà cos'altro.